Allora vedete un'ipertrofia del piccolo rotondo e un'atrofia dell'infraspinato. E c'è meno muscolo da quella parte. Poi facciamo lo specifico test muscolare. Non c'è forza. Poi guardiamo la infrarotazione a 90 gradi di abduzione e basta. E questo tutto. Poi guardiamo la flessione orizzontale. Basta. Ok. Now, can you lie on your back? Guardiamo com'è il suo glide posteriore. Ed è limitato. We reconfirm that his middle rotation is limited. We reconfirm that his horizontal flexion is limited. Ok. Now you can stop for a second. Running. Ok. Mantiene. 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 No. 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 I will pay him 50 euros after. perché. mi... No. 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 Grazie.